Ma salve, buongiorno, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer89, siu, mo torno di con un nuovo video di Clash Royale, subito un bel pollicione in su se mi volete supportare e, dato che sono molto buono e gentile, vi voglio ringraziare per tutto il supporto, andiamocene subito su Instant Gaming, ovviamente Instant Gaming lo conoscete, trovate il mio referral link qui sotto in descrizione se mi volete supportare, se mi supportate mi date una grande mano, grazie mille. Vi voglio regalare una card, l'altra volta mi avete chiesto Nintendo, quindi oggi vado a regalare una card a Nintendo, vi regalo tre mesi di membership e vado ad acquistare per voi tutto quello che è questo codice, che uno solo di voi può riscattare il più veloce. Questo è il codice, però mi raccomando, se mi volete supportare, vi ricordo qui sotto in descrizione, trovate tutti i miei referral link, Coro, MyProtein, Amazon, tutto quanto, grazie infinite a chi lo farà. E dato che vi voglio tanto, tanto, ma tanto, tanto bene, vi regalo anche una card da 10€ della Playstation. Vi ricordo che questi soldi non sono soldi che mi dà Card Game Club, ma bensì sono parte dei soldi che ricavo tramite i vostri acquisti, che ogni tanto vi rito giochi, sia in live e sia in alcuni video. Spero che questo vi faccia piacere, vi voglio tanto, tanto bene, grazie mille a chi mi supporta. Oggi ce ne andiamo su Clash Royale, io spero che comunque voi appreziate e che utilizzate il mio referral link, basta salvarlo tra i preferiti, se no vi dimenticate. E qua raga, tanta roba oggi, tantissima roba, perché se vi porto su Clash Royale e alzo anche leggermente, qui potremmo aprire oggi il baule questo incredibile. E potremmo provare a vincere il Minatore Colossale facendolo uscire. Quindi abbiamo sempre il nostro Egolem, bello, bellino e tanto pazzerello. Vediamo insieme, devo fare un po' di vittorie. Oggi ipoteticamente dovrei fare tre partite, perché avete lasciato 13.000 mi piace, sapete che se arriviamo a 15.000 sono quattro partite. Questo lo faccio non per scammarvi, fessa mammata, o per chissà che cosa, così almeno evito di arrabbiarmi. Questo è un deck che probabilmente utilizzavo io tanto tempo fa, quello di clonare le cose. A me questo deck mi piace da impazzire. Vi dico la verità, non è che vedevo menti o fa chissà che cosa. Vediamo, io di lui non mi fido, assolutamente, assolutamente. Ok, a me va bene tutto. Uh, allora questo forse un po' di meno, questo un po' di meno, vi dico la verità. I danni me ne fa una mostruosità ragazzi, i danni me ne fa una mostruosità. Ma capendo più o meno che tipo di deck abbiamo contro, non credo di avere possibilità. Cioè la torre gliela devo lasciare. Lo so che sembra brutto da dire, ma io gli devo lasciare la torre. Perché questo è uno spawn deck molto molto forte. Quindi automaticamente devo fare questo. Il problema è tutto il comportimento, che è un problema grande. Quindi mi vado a difendere i cosi e vado cattivissimo con questi, così almeno. Ok! Vinta la partita. Ragazzi vinta. Vinta. Non è che può fare più nient'altro lui, eh. Cioè ho preso esattamente quello che dovevo prendere. Basta. Vinta. Non, ragazzi, scammatissima come partita, me ne rendo conto. Però lui ha tirato i tre moschettieri dove io ho tirato i barbari. È stato un predict assurdo, devastante, bellissimo. Abbasso un pochino il microfono che era leggermente più alto del solito. Mamma mia, tantissima roba. Uh, posso farlo subito. Uh, allora, fermi tutti. Questa la prendiamo. Qualsia seriarità. Minatore colossale, ti prego. Ti prego, minatore colossale. Ti prego, minatore... Ragazzi, lasciamo subito un like. Perché così mi dà del supporto proprio telematico, telepatico, telefrintica, frotico. Dai, 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 dammi il coso colossale. Sì, c'è un po' di jolly. Dammelo. Dammelo. Dammelo, come disse cicciolino. Eccolo, let's go! Penso che sia un po' scriptata come cosa, no? Che tu devi comunque sbloccare il minatore colossale. Signori, let's go! L'abbiamo sbloccato in tutta la sua meraviglia. Dove sei, patatone? Patatone patatino? Eccolo qua! Ci abbiamo anche il libro dei libri, ma per il momento non lo vado a utilizzare. Abbiamo sbloccato il minatore colossale. Per il momento non lo utilizzo. Perché non vado a utilizzarlo? Perché è molto basso. Insomma, devo studiarmi un attimo il deck. Ho fatto un cambio deck. Quindi, mi raccomando, puoi al liceo in su che sono molto contento. Secondo me è un po' scriptato. Cioè, nel senso che dovevamo trovarlo. Secondo me, eh. Oh, io parlo secondo me, eh. Sapete che io adoro Clash Royale. Però se c'è da dire una cosa, la dico. Secondo me... Ma ci sta? Ci sta? Ci sta? Secondo me la sfera infuocata è stata delicatissima. E ci può stare. Direi che tutto sommato mi può star bene tutto. Non facciamo arrivare neanche con le scatole. Lei. Ce n'andiamo. Se faccio qualche danno in torre, sono contento. Ma guardate! Vi devo dire che a me non va così male. A me non va così male. Ve lo posso dire? Sicuramente le guardie. Perché la struttura ci servirà per spostare la... La. Giusto? No, le regole del Royale non sono le guardie. Mi confondo sempre. Mastino Lavico diventa difficile. Però con i Magliari Royale noi rischiamo decisamente di fare qualcosa di buono. Secondo me... Secondo me... Secondo me rischiamo di fare veramente qualcosa di molto buono. Non dico di portarci via due torri. Ma una riusciamo a portarcela via. Se io vado a fare così e col senno di poi ho sbagliato uno scaricucciolo, ve lo dico. Io non so lui che cosa si potrebbe inventare. Speriamo di averlo tirato bene. Sì, l'ho tirato benissimo. Quello non l'ho tirato bene, ammetto. Grandissima difesa. Bellaci. Bravo. Bravo, bella difesa. Bella difesa. Non posso dire altro. Lui mi dovrebbe aver dato la partita, eh. Mi dovrebbe... Attenzione perché lui potrebbe cambiare idea da un momento all'altro, secondo me. Però non credo. A sto punto non credo. Ok, do un po' di supporto. Mi, regà, posso dire che ho giocato molto bene? Su tutta la linea? Cioè, mi sento di dire questo? Legittimo. 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 Bello, regà. Ma che cos'è questo video? Bello. Piacevolissimo. Piacevolissimo questo video. Infatti, ho un brutto presentimento. Che ti pare che... Le vinciamo anche l'altra? Calcolate che mi serve un botto di oro. Potrei già portare tutto il deck a livello 14, regà. Potrei. Potrei. Se fosse stata un altro momento di Clash Royale, probabilmente l'avrei fatto. A tal proposito, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi e di ricordarvi. Ricordatevi che su tutti i giochi Supercell, quindi anche su Clash Royale, mi potete supportare, se sciuppate, con il codice creatore CiccioCamer89. Questo è leggermente counter. Spero che voi ve ne siate accorti, perché lo è. Non è che non lo è. Lo è, lo è. Provo a difendermi al meglio delle mie possibilità, perché veramente tanti danni, tantissimi. Posso fare così? Posso fare così? Riesce a dargli un cazzotto? No, non riusciamo. Quindi me ne vado in hit qua. Vado a fare così. Mando indietro la Valkyria. Che anche se mi prende qualche danno non è un problema. Allora, il problema qual è? È che questo qua mi countera proprio, regà. Cioè, questo deck contro di me mi fa malissimo. Perché le guardie vengono sconfitte dal Gran Cavaliere. Questo dalla Valkyria, questo dal Gran Cavaliere. Cioè, praticamente io su questa partita non mi posso proprio muovere mai. Provo a fare così che secondo me ci può stare. Ok, lui non mi salta per fortuna. Questa è stata una cosa ottima. Perché me l'ha segnato come troppo vicino, no? Quindi in realtà a me va bene su tutta la linea. Sicuramente posso fare così. Perché devo andarmi a difendere comunque la Torre, regà. Non mi posso permettere. Non credo di fare un'altra giocata del genere. Cioè, deve sbagliare lui. Cioè, questa partita al 90% la deve vincere l'opponent. Al 90%, regà. Perché se questa partita la vinco io, secondo me è più un errore dell'opponent che qualcosa di bravura mia. Non è cattiveria, ma penso che sia così. Lui veramente mi può veramente distruggere in mille pezzetti. Ok, su tutta la linea. Però quello là mi fa tanto male. Quindi o me la campero un minimo. O me la devo camperare veramente un botto, regà. Pulmine non brutta, eh. Pulmine non brutta. Non male neanche quello. Non so se... Vi dico la verità. Ho preferito non rischiarvela. Magari ho sbagliato, eh. Ok, potrei forse ciclare. Mamma mia, mi vuole proprio schiattare di là lui. Facciamo così. Facciamo così. È brutta, eh, regà. Ti prego, ti prego, ti prego. Ok. Non credo che entri in niente, Nit. Non credo possa entrare in niente, Nit, raga. Ho questo dubbio che lui ha pure la fulmine. Eh, regà. Lui sì, c'ha la fulmine, regà. Adesso è un tutto per tutto, eh. Ok, vinto. Mamma mia, regà. Eh, bravo Ciscino. Bravo Ciscetto. Bravo Ciscino e bravo Ciscetto. Eh, però, 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 diciamo che queste partite sono state proprio belle. Oggi veramente belle, belle, belle. L'ho capito. Se ti puoi togliere. Ok, andiamoci a prendere queste che ci serviranno probabilmente per un prossimo aggiornamento, un prossimo rilascio carte. Chissà. 6459. Mamma mia, così, signori e signorine. Grazie mille per aver visto questo video. Vi ricordo di guardare gli altri due video che troverete qui sul canale, mi raccomando, perché stiamo facendo dei video bellissimi, almeno secondo me. Grazie mille per tutto quanto il supporto che mi date ogni giorno. Vi ricordo qui sotto in descrizione tutti i miei link. Mi raccomando, se acquistate anche su Amazon utilizzate il mio referral link. Basta salvarvelo e mi supportate sempre. Grazie mille a tutti. Al prossimo appuntamento a vostri 1089. Ciao, ciao.